Ciao a tutti, io sono Luca dell'Associazione Culturale Cortocircuito, nonché della redazione di Shortcuts Magazine e sono qui per darvi il benvenuto alla nuova puntata di Pillole di Cinema, questa rubrica realizzata in collaborazione con la biblioteca Luigi Paccolo di Savigliano. Infatti vi ricordo che tutti i film di cui andiamo a parlare in queste mini video recensioni li potete trovare all'interno del catalogo della biblioteca e dunque potete tranquillamente prenderli in prestito. Il film di cui andiamo a parlare oggi è il film Falstaff del 1965 per la regia del grandissimo Orson Welles. Orson Welles è considerato a tutti gli effetti ed è uno dei più grandi registi della storia del cinema, alcuni sostengono addirittura i più grandi, forse è uno dei registi che ha effettivamente un po' inventato proprio il cinema moderno così come lo conosciamo oggi attraverso capolavori come Quarto Potere, l'Infernale Quinlan eccetera eccetera. E tra i vari capolavori che ha realizzato Welles, secondo il mio, rientra anche questo Falstaff. Questa opera è ispirata ai testi di Shakespeare, a diversi testi di Shakespeare in realtà, perché Falstaff di fatto non compare come protagonista in nessuno delle opere del celebre poeta inglese, ma compare appunto in diverse opere di Shakespeare, dall'Enrico IV fino al Riccardo II. E effettivamente questa risulta essere una trasposizione un pochino atipica, perché solitamente dell'opera di Shakespeare vengono trasposte proprio le opere principali. Penso all'Enrico V, portato più volte al cinema da Lorenzo Olivier, passando poi per Kenneth Branagh e più recentemente, anche con il film che era stato presentato a Venezia, il re con Timothee Chalamet. Quindi diciamo effettivamente Shakespeare è stato molto trasposto al cinema, ma la figura di Falstaff non era mai stata portata appunto come effettivo protagonista. Ed effettivamente questa sorta di adattamento, se vogliamo dire, appunto perché non trae ispirazione da un'opera ben precisa, in questo adattamento Wells appunto dedica largo spazio a questa figura, questo personaggio estremamente particolare e forse effettivamente l'unico personaggio davvero moderno che viene portato appunto all'interno della narrazione. Falstaff viene prima di tutto interpretato dallo stesso Orson Welles, che costruisce appunto il personaggio anche con la sua fisicità, dando vita appunto a un personaggio che è considerato appunto un millantatore, un contaballe fondamentalmente, un truffatore, che però affronta la vita in maniera estremamente spensierata e in contraposizione con tutti i vari lord dell'epoca ossessionati dal concetto di onore. E appunto Falstaff nella prima metà principalmente del film è il compagno, nonché amico di quello che poi diventerà Enrico V. Enrico V invece che deve far fronte comunque al suo, deve adempiere diciamo al suo destino in quanto erede al trono, in quanto appunto la prima metà del film ambientata durante il regno di Enrico IV che è minacciato da vari contendenti per il trono in quanto Enrico IV stesso aveva usurpato la corona. E dunque di fatto questo è un percorso di formazione sicuramente di Enrico V che di fatto pian piano si lascia alle spalle appunto la felicità giovanile, la spensieratezza e il tipo di vita che realizzavo appunto con il suo compagno Falstaff e per dar spazio invece appunto a tutti i doveri che deve compiere diventando sempre più austero. E questo cambiamento viene sottolineato proprio dalla regia stessa, dalle inquadrature con cui vengono messe, con cui viene messa in scena la storia. All'inizio della storia ci sono queste inquadrature dal basso quando si tratta di portare in scena tutte le varie scene ambientate a corte, appunto con questa austerità, questi personaggi, i re e i suoi vari collaboratori che vengono appunto quasi riportati come se fossero dei giganti, quasi privi di sentimenti in qualche modo. E mentre nella prima parte appunto quando si tratta invece di inquadrare Enrico V e i suoi vari compagni, al contrario la camera appunto li insegue, si muove con loro. E pian piano invece appunto nel momento in cui Enrico V sarà effettivamente pronto a ereditare il trono potrà appunto guardare la corte e i sudditi diciamo dalla stessa altezza proprio cinematograficamente parlando. Falstaff è un film veramente incredibile prima di tutto perché nonostante ci siano forte tinte drammatiche. Orson Welles in realtà inserisce dei momenti di vera e di vera e propria commedia quando appunto Falstaff è il protagonista in cui si diciamo mostra appunto tutti i varie tecniche con cui questo personaggio, con cui non possiamo non empatizzare, cerca appunto di non fare di fatto assolutamente nulla, di scappare nel momento in cui si tratta di combattere per poi prendersi meriti e tutte le varie tecniche appunto per truffare le persone in qualche modo tirare avanti. Però egli risulta essere in qualche modo anche un amico appunto dell'Enrico V che però nel momento in cui dovrà, quest'ultimo dovrà appunto ereditare il trono invece rinnegherà l'amico in quanto appunto non sarà più compatibile con lo stile di vita portato avanti da Falstaff. Una delle forse sequenze più celebri del film risulta invece essere quella della battaglia di Shresbury, sicuramente l'avrò pronunciato male, che risulta essere una delle scene forse di battaglia a tutti gli effetti della storia del cinema nel senso di Orson West, davvero con pochissimi mezzi, riesce appunto a girare una battaglia che ha tranquillamente retto tutti gli anni che sono passati da quando è stato realizzato questo film, una battaglia estremamente realistica, estremamente immersiva, con appunto effetti anche speciali proprio pratici, di sangue eccetera che per l'epoca sicuramente dovranno essere anche discretamente violenti, eppure risulta essere appunto una battaglia estremamente realistica e che può essere tranquillamente paragonata a molte battaglie che vengono immesse in scena oggi a dimostrazione di quanto appunto Wells comunque come regista fosse assolutamente un genio e potesse portare a casa appunto con pochissimi mezzi dei risultati che poi rimangono nella memoria collettiva. Insomma, Falstaff è un film veramente interessante, una delle varie trasposizioni appunto dell'opera di Shakespeare realizzata da Wells insieme al Macbeth e all'Otello, altri due bellissimi film, però appunto personalmente forse questo è quello che preferisco di più in assoluto, perché è sicuramente una trasposizione particolare, originale, appunto con elementi di commedia e appunto nel complesso risulta essere un film estremamente riuscito che non sembra essere invecchiato neanche di un minuto. Per cui appunto mi consiglio di recuperare questo film, mi consiglio in realtà di recuperare tutta l'opera di Wells che nella sua carriera ha realizzato davvero una serie di capolavori ed è uno dei registi imprescindibili, assolutamente da conoscere, per cui a me non resta altro che augurarvi una buona visione e noi ci vediamo alla prossima puntata di Pillole di Cinema. Ciao a tutti!